Ciao, sono Claudio Oliboni e sono il viticulturalista della cantina Valplucella Negrar. Qui siamo in Iago Negrar, in Valplucella Classica. Questa planta è una corvina e il sistema tradizionale di Valplucella è la perola veronese. La perola veronese è come un'umbrella. Ora faccio prunire la planta e lascio due o tre stranche con 8-10 botti per ogni. Ora il vino è in miglior condizione per la crescita e per la maturazione e la sanità delle gravi. La perola veronese è come un'umbrella. Grazie a tutti.